Si è tornato a parlare di Bitcoin. Tutti parlano di nuovo di Bitcoin dalle trasmissioni televisive, ai mainstream media, ai telegiornali, ai quotidiani, alle persone in strada. È sicuramente un momento decisamente focalizzato di nuovo sulle criptovalute grazie a questa enorme manipolazione che c'è stata e che ha fatto arrivare il prezzo di nuovo sopra i 5.000 dollari. Il prezzo sembrava stesse trovando questa resistenza, poi a parte questo spike, questa resistenza su questa struttura importante che avevo segnato, vedete qua, ha ritracciato un pochino per poi di nuovo nella notte esplodere e riposizionarsi verso i massimi. Infatti se guardate adesso dov'è che sono andate a chiudere queste candele, sono sul time frame orario ragazzi, queste candele sono andate a chiudere proprio sui massimi di questi spike, vicinissimo ai 5.100 dollari. Poi il prezzo è di nuovo sceso e sembrerebbe aver usato come resistenza la struttura di prezzo a 5.000 dollari di cui vi parlavo. Veramente incredibile quello che stiamo guardando su Bitcoin in queste ore. Imprevedibile è la parola giusta ragazzi, imprevedibile perché sì, lo so che la parola più gettonata nei miei commenti ma in generale nei commenti di tutti e in molti articoli è Io l'avevo detto, io l'avevo detto tre anni fa che nel 2018, io avevo detto che il lunedì del mese di aprile sarebbe... Ragazzi, sapete quando diciamo una cosa, soprattutto nei mercati finanziari, abbiamo il 50% delle probabilità di azzeccarci, perché di questo parliamo, di azzeccarci. Il 50% perché alla fine sui mercati possono succedere due cose, no? O il prezzo va giù o il prezzo va su. Sì è vero può anche lateralizzare ma a un certo punto si esprime. Bene, quindi è logico che ci sarà sempre il 50% di persone che a un certo punto avranno ragione e il 50% di persone che a un certo punto avrà torto. Ma non è col torto o la ragione che si fa trading. Io sono un trader, non sono un veggente, non devo fare il veggente. A me non interessa sapere domani che cosa succederà sui mercati finanziari. Vorrei tanto poterlo sapere, vi dico la verità, ma non lo so. Quindi quello che posso fare è semplicemente studiare il grafico, vedere quello che il grafico dice, capire i fondamentali, in questo caso la tecnologia, e applicare le mie regole, le mie strategie in base al profilo di rischio. Questa candela non è una candela che, anche se io stavo aspettando di poter rientrare, non è una candela che mi permette di poter rientrare su Bitcoin. Con il rischio di aver perso l'ingresso ad un prezzo migliore, qui sotto, qui sopra, a 4.700, non mi interessa aver perso l'entrata. Tanto nei mercati di opportunità ce ne sono tantissime e se ne ripresenteranno tantissime, ma non voglio esporre a rischio il mio trade, il mio investimento, il mio capitale. Quindi, adesso non posso fare altro che stare a guardare e commentare qui sul canale queste incredibili ore su Bitcoin. Del resto di Bitcoin, ragazzi, ne stanno parlando veramente tutti, guardate qua quante notizie. C'è di tutto, c'è di tutto e il contrario di tutto. C'è chi dice, guardate vi faccio vedere questo articolo, la crypto community specula, perché questa è la parola giusta, specula, stiamo speculando. Io compreso sto cercando di portarvi le notizie che secondo me sono le più, diciamo così, possono avvicinarsi di più alla realtà, ma è solo la mia visione. E quindi stanno speculando, nel video di ieri vi ho detto le tre motivazioni più plausibili, secondo me torna fuori lo scherzo di aprile che è stato fatto, torna il discorso del dollaro che scende, le posizioni in Lyft, c'è l'initial public offering di Lyft, l'azienda concorrente di Uber sul mercato che è andata male, ma c'è chi invece ha monetizzato e ha spostato gli investimenti su Bitcoin. C'è l'ipotesi dello short squeeze e quindi del trading algoritmico che si è andato a prendere tutti quanti gli short che c'erano su Bitcoin, perché era un momento di grande posizionamento delle operazioni short. Insomma la scarsità di Bitcoin, veramente si dice questo e poi ci sono ovviamente quelli che ormai dicono ok è finito il momento ribassista, adesso inizia il momento rialzista, gli entusiasti di Bitcoin che stanno scrivendo articoli e facendo video su video, ma c'è anche chi dice che lo leggevo, leggevo proprio poche ore fa, vediamo se lo ritrovo, ah eccolo qui, Bitcoin is surging again, just ignore it, questo è un articolo di Bloomberg che giustamente dice Bitcoin ha fatto questo spike, vabbè ci sono bla 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 varie motivazioni, c'è chi ormai già dice che è iniziata la bull run che porterà di nuovo ai massimi a 20.000, ma alla fine poco importa ok, lo spike che c'è stato sulle cripte su Bitcoin è ingiustificato e questo eccesso di ottimismo deve essere ignorato ok, quindi senza l'hype che di solito accompagna gli spike delle cryptocurrencies, delle criptovalute, molte di queste coin morirebbero velocemente, quindi dice di stare attenti, dice di non farsi prendere dai facili entusiasmi ed è un po' il messaggio che vorrei far passare io, non fatevi prendere dai facili entusiasmi, scrivete nei commenti se volete scrivere che vedete tutto, siete estremamente positivi, fatelo, io non lo farò perché non vi appoggerò e nemmeno vi dirò che non è vero perché non è nemmeno giusto rovinare i sogni, io purtroppo ho una mente da imprenditore e da trader e quindi ragiono da imprenditore e da trader, a me questa candela spaventa, questa candela è una candela di speculazione, è una candela da cui devo stare molto attento, soprattutto in un contesto in cui sto valutando di rientrare in bitcoin, su bitcoin, ok? Riaprire le posizioni che avevo chiuso a 17.000 dollari e che avevo chiuso quando era sceso sotto i 5.000, ok? Adesso siamo sopra i 5.000, sì potrei aver perso l'attimo, ma non mi interessa, il mio profilo di rischio, il mio money management guida le mie attività di trading, certo che vorrei vedere bitcoin arrivare a 100.000 dollari, lo vorrei, lo vorrei come chiunque di voi, è ovvio, ma una cosa sono i sogni ragazzi e con i sogni non si fa trading e un'altra cosa è la realtà, l'oggettività, i fondamentali che non sono cambiati, rispetto a tre giorni fa non c'è nessuna news che giustifica quello che è successo e non c'è il passato, no perché nel 2017, ad aprile del 2017 è successo esattamente, ragazzi, ma quello non è backtesting, è andare a prendere un episodio simile nel passato, in un passato che per un sottostante così giovane non ci dice nulla, attenzione a fare queste comparazioni. Quindi, godiamoci quello che stiamo guardando, vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni e senza la necessità di dover dire devo azzeccarci, devo dire questa cosa perché devo poter azzeccare poi quello, non siamo veggenti, non facciamo i veggenti, no? Magari essere veggenti. Se sapevate di questo impulso, bene, spero che chi lo sapeva è entrato con tutto il capitale a disposizione e si è fatto un 20% in pochi minuti, lo spero con tutto il cuore che l'abbiate fatto, ma dire sì l'avevo detto e poi non averlo monetizzato non serve a niente, ragazzi, veramente, io sono un trader, io devo far lavorare i soldi al posto mio, devo far lavorare il mio capitale, non devo poter prevedere nulla. Con questo è tutto, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!